ma ciao buongiorno buon pomeriggio buona allora subito subito vi lascio quello che ho mangiato secondina amore vi lascio quello che ho mangiato oggi 3 2 1 vai good morning buongiorno con la mia tazzola ci sono buongiorni che non buongiorno non cazzo ecco si comincia la giornata con il solito latte col caffè 4 5 gocce di dieta tic e due fette di wasa con un po di marmellata e questa è la mia colazione ciao ma ciao un'altra volta e qua ho messo su il pranzo come potete vedere come su sul pranzo che è minestrone che sta bollendo quello surgelato e li ho messo dentro l'acqua e basta ecco perciò per pranzo mangerò minestrone gli metto dentro 30 grammi di riso metto dentro 30 grammi di riso ecco qua ciao e siamo arrivati alla merenda che oggi mangio 3 1 2 3 non due ma tre clementine e questa è la mia merenda è arrivata è arrivata è arrivata la cena allora metto flash altrimenti non si vede niente allora come vedete mi sono fatta il passato di verdura ecco e dentro ci ho cotto una sovraccoscia di pollo che così gli da un po di gusto ecco perciò stasera mi mangerò un bel piattone di passato di verdura con la sovraccoscia dentro tipo lessa a mio figlio qua gli sto facendo ecco qua le due discecche di rosbis eccole qua a lui gli sto facendo le due discecche di rosbis eccole qua e io mi mangio questo e buon appetito eccomi qua come avete visto vi ho fatto vedere cosa ho mangiato oggi allora colazione le due fette vasa con la marmellata il caffè latte a pranzo ho fatto allora ho fatto tanto minestrone perché ne ho fatto troppo purtroppo tirando giù la busta del 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 minestrone mi è andato giù era un blocco e mi è andato giù tre quarti di busta di minestrone ormai l'ho dovuto fare perciò come avete visto era tanto perciò cosa ho fatto l'ho diviso una volta cotto mezzo l'ho fatto a cena passato e mezzo l'ho mangiato a pranzo allora pranzo l'ho mangiato con 30 grammi di riso e gli ho messo un cucchiaino di grano un filo d'olio d'oliva e ho mangiato quello poi al pomeriggio mangiato le clementine e a cena pochi minuti fa perché ho mangiato pochi minuti fa e sto cercando di farvi uscire sto video stasera ho mangiato il passato di verdura con la sovracoscia di pollo e basta perché l'ho frullato perché ho detto vabbè ormai l'ho fatto se no lo devo mangiare domani lo mangio stasera e gli ho buttato dentro la sovracoscia l'ho cucinata dentro lì che così però vi giuro è venuto buonissimo cioè cucinandogli dentro la sovracoscia di pollo dentro al al passato di verdura è venuto veramente buono è veramente un altro sapore ecco perciò va bene ho cucinato la sovracoscia dentro il passato di verdura e l'ho fatto andare 20 minuti così piano piano ecco e e ho mangiato quello e ho mangiato anche di gusto perché era veramente buono ecco e basta poi un'altra cosa ieri non ho pubblicato cosa ho mangiato e c'è stato chi sotto mi ha detto che devo essere più costante nel pubblicare tutti i giorni cosa mangio allora io avevo già detto che non sarei riuscita tutti i giorni a pubblicare cosa mangio ok perché è impossibile ok perché se io devo se io devo caricare qualcos'altro non ce la faccio caricare due video contemporaneamente perché non ho la fibra qua dove abito non ho la fibra perciò la linea è molto lenta ci vuole anche quattro ore dei giorni per caricarmi un video di 25 minuti per quello che non li faccio oltre perché altrimenti non mi carica più capito perciò avevo già pensate che il video del calendario l'avevo già registrato e poi è caricato però sono andata per pubblicarlo detto ieri ho detto lo metto lo metto in programmazione e non trovo il video dove l'avevo caricato nel canale una franci per amica perciò l'ho dovuto ricaricare vabbè non importa perché tanto l'ho ricaricato ma non ho potuto non ho potuto caricare anche l'altro video perché era un video di mezz'ora quasi quello del calendario però vi dico a voce cosa ho mangiato guardate ieri a colazione sempre a stessare no ieri ho mangiato le fette biscottate con la marmellata a pranzo ho mangiato 60 grammi di spaghetti integrali con un po di grana un cucchiaio di pomodoro e cos'è che gli ho messo del grana e un filo d'olio basta pomeriggio mangiato mezzo pacchetto di cracker perché ne avevo aperto mezzo e mezzo era lì ho mangiato più che tre cracker ecco integrali e a cena ieri sera ho mangiato la bresaola ieri sera c'è non mangiato la bresaola che avete visto nel video speso ho mangiato la bresaola con l'insalata songino ho mangiato quella ieri sera a cena ecco però appunto non ho fatto il video ecco io come ho detto appunto mi è impossibile caricare tutti i giorni il video di cosa mangio io cerco di farlo tutti i giorni però se carico altri video non mi fa caricare anche questo altrimenti dovrebbe uscire a mezzanotte perché anche questo adesso sono già ho mangiato presto apposta a parte che mio figlio è venuto a casa la palestra l'ha raffamato e io ho fatto subito da mangiare ho detto vabbè mangio anch'io perciò abbiamo mangiato come come in casa di riposo alle sei e mezza ecco abbiamo mangiato e perciò sono quasi le sette ma sto video fa che presto perché più di dieci minuti non dura perciò dai in un'oretta carica per le otto e mezza credo stas dopo lo vedrete ecco comunque io cerco di fare il possibile per per caricare i video tutti i giorni con cosa mangio però non ve la prendete se tutti i giorni non escono capito perché appunto se devo caricare qualcos'altro non posso caricare cosa mangio magari lo faccio il giorno dopo dicendovi cosa ho mangiato il giorno prima ecco però tutti i giorni mi è impossibile farlo mo chiudo perché altrimenti se dura appunto tanto non carica e lo vedete a mezzanotte ok perciò io vi ringrazio vi mando un bacio ci diamo appuntamento domani con cosa ho mangiato oggi sono contentissima grazie a tutti che siete in tanti che lo guardate e siete contenti perché in tanti magari prendete spunto vi piace questa tipologia di video vi mando un bacio vi do appuntamento alla prossima con cosa ho mangiato oggi si fa la fame ragazzi a dieta si fa la fame si fa la fame ma va bene così ciao